La freccia raddoppia. Contenuti extra e pagine interattive con l'app gratuita. Da luglio il magazine DFS italiane diventa interattivo e offre contenuti extra in realtà aumentata. Dopo aver scaricato l'app gratuita, la freccia magazine, basta cercare il simbolo sulle pagine della rivista per accedere direttamente alle sessioni web dedicate, video e interviste in realtà aumentata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.